L'idea è davvero giusto, eh? Quando ascolto la ragione? Eh, no. Perché te non ci parlo in tempo? Vabbè, lasciamo stare bene. Allora, quando ascolto Wagner... No, 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 no! No, signora! No, Wagner! Vabbè, se non possiamo parlare neanche di Wagner, parliamo di me! No, no, no! Sì, sì, sì! Vedi, ma...